Quando sono tornato tutti mi hanno detto hai dieci anni di meno. Ho conosciuto la clinica del dottor Palmas tramite un mio amico che già nel 2018 aveva fatto un intervento e ho visto quale lavoro era riuscito a ottenere e cercando poi su Facebook altre soluzioni per fare un confronto invece ho deciso per questa decisione, proprio per la serietà, per la spiegazione che dava su Facebook e con mano già vedevo il lavoro che faceva. Diciamo che la nostra generazione non aveva una grande cultura di igiene dei denti e mi sono trovato già intorno ai vent'anni con varie carie e alcune estrazioni. Da quell'esperienza ho abbandonato proprio il discorso di frequentare i dentisti e circa due anni fa una forte piorrea sono caduti dei denti interi e da lì ho deciso che era il momento di prendere una decisione. Ho fatto questa operazione di chirurgia in anestesia totale perché comunque essendo cardiopatico avrei avuto più sanguinamento e mi sono stati messi sei impianti sopra e sei sotto. Devo dire che tutto lo staff, dal receptionist ai dottori ai protesisti, per mia esperienza personale è stata ottima. Sono molto soddisfatto sia del risultato che sia della cura che hanno messo nel seguirmi. Dove vai? Non conosci nessuno, che materiale ti mettono e i soldi in anticipo. Tutti hanno cercato di mettermi i detti dubbi. Però devo dire che quello che ho visto sui social, su questa realtà, per me mi ha tolto qualsiasi dubbio e la mia decisione è stata ferma. In dieci giorni, dalla mia richiesta alla chiamata, già ero pronto per venire. Un sorriso trasmette tranquillità, simpatia. Cioè, fatto che ho fatto questo passo, questa scelta, ne ho guadagnato sia nel alimentarmi bene e il rapporto con le persone è migliorato al 2000 per 1000 proprio.